Per evitare la spogliazione della stazione ferroviaria di Sulmona occorre riempire di contenuti gli annunci di lotta per la salvaguardia dei nostri presidi, licenziando quindi atti amministrativi coerenti con l'effetto di conservazione e potenziamento che il sindaco e l'assessore annunciano di voler raggiungere. Senni tangibili in tal senso non ce ne sono e quanto afferma in una nota il capogruppo di Forza Etaria in Consiglio Comunale Elisabetta Bianchi a proposito della soppressione del posto di polizia Polfer di Sulmona, disposto dal Ministero che ha richiamato all'ordine le sigle sindacali per il prossimo 21 dicembre. Torna alla ribalta la soppressione del posto di polizia ferroviaria della stazione di Sulmona e non possono che stridere le recenti dichiarazioni di impegno del sindaco Anna Maria Casini e dell'assessore regionale Andrea Gerosolimo. Stridono alle orecchie di chi in città sa che queste strategie di soppressione non sono altro che il frutto delle politiche regionali che hanno qualificato Sulmona come area intermedia e non polo d'attrazione, tradendone così la vocazione naturale e storica in Calzala Bianchi. Ne è fuggito esempio la delibera del luglio di quest'anno del Consiglio Comunale sull'ospedale di Sulmona, perorata nel territorio da Gerosolimo e Casini, voluta e votata dalla maggioranza consigliare in abbandonica quiescenza al presidio ospedaliero di base, voluto da D'Alfonso e Paolucci, nonostante le tante deroghe al decreto Lorenzini spalmate su tutta la regione, tranne che per la nostra città, che ha visto così perdere figure apicali, professionalità e reparti in un ospedale che ad oggi vede mortificata la sua potenzialità. Se incomprensibile il compresidio Polfer venga lasciato allo stremo dal Ministero dell'Interno in un territorio logisticamente strategico destinato all'ospedale numerosi rifugiati, un'importante casa di reclusione e un treno storico che attrae numerose presenze in transito, del pari incomprensibile risultano le scelte politiche locali, sempre più improntate a una politica del ribasso a danno di tutto il comprensorio, fa notare la consigliera di Forza Italia, che annuncia l'impegno del partito a continuare con coerenza l'opera di salvaguardia dei presidi cittadini con la concretezza che la contraddistingue nel tempo.